L'impatto del progetto sotto il profilo ambientale è sicuramente notevole, perché tutti sanno che gli alberi contribuiscono alla cattura della CO2 e alla riduzione delle porveri sottili. Tra l'altro sono molto importanti anche per il ciclo dell'acqua, per la biodiversità e si sa che i cittadini che vivono nei pressi del verde urbano hanno un benessere psicofisico notevolissimo. La cosa veramente bella di questo progetto è che piantare alberi è un atto alla portata di tutti e soprattutto è un dono che facciamo alle generazioni future perché sono loro che in realtà beneficeranno di questa attività.